Allora amore, mi vuoi dare una mano? Tesoro, sto lavorando al computer, dai! Al computer tutto il giorno, tu? Eh, questo faccio, devo lavorare, lavoro al computer, dai! Sì, beh, la casa non si pulisce da sola, eh! Eh, vabbè! Non fai mai niente! Ha ragione! Diglielo, diglielo! Eh, infatti, glielo sto dicendo! Non sei d'accordo anche tu? Sì! Perché in casa lui una mano non la dà mai, mai! Oh, sentito? Poi gli ripeti cento volte le stesse cose, ma nulla! Eh già! Ah, non guardate me, che neanche a me una mano in casa non me la dà mai! Anche con te! Eh, ma allora è un vizio! Si vede proprio che è un vizio! Sì, no, ma diglielo, diglielo! Diglielo anche tu! Diglielo anche tu! Sì, perché tu sei quello che non sporca mai! Vero? Andiamo parlando la mia mano alzata e poi fai la capire! Dai, io, ti stendi! Che quando la parola è grave, perché se la parola è grave, perché se la parola è grande... Oh, basta! Basta, non ci capisco più niente! Una le ho sposate, una! No, in tre è troppo, è troppo! Me le vado, me le vado, basta! No, in tre è troppo, è troppo uova! Grazie a tutti.